Sai di cosa parla il tuo romanzo? Uno dei problemi più importanti che possano capitare in un romanzo o in un racconto è il tema non a fuoco, oppure la inconsapevolezza del tema da parte dello scrittore. Come si capisce, ad esempio, da una trama che procede un pochino a caso, da un finale debole o non coerente con la storia, un po' appiccicato lì, dal fatto che l'autore non sappia sintetizzare in poche parole la tematica che ha affrontato. Credimi che capita molto spesso. Il tema di un'opera è l'argomento, o meglio, corrisponde al punto di vista dell'autore rispettivamente a quell'argomento. Sai dirmi qual è il tema di una tua opera narrativa, un romanzo o racconto? Scrivilo nei commenti. Ti ricordo che la candidatura per frequentare il corso annuale scade il primo di ottobre. Mi raccomando, clicca qui per inviarla.